La situazione dell'ILVA nel contesto dell'industria siderurgica italiana e dell'industria italiana in generale, il procuratore capo della Repubblica di Taranto, dottor Francesco Sebastio, premetto che i lavori odierni verranno trasmessi in streaming perché è stata richiesta, ovviamente attuata, la richiesta di trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, il proprio parere positivo. Iniziamo quindi i nostri lavori. Un'ulteriore premessa da fare è che questo incontro non è certo il primo che il procuratore Sebastio ha fatto con commissioni parlamentari, ve ne furono un altro paio con la commissione pecorella l'anno scorso e tuttavia non è frequente l'intervento di magistrati su casi ancora aperti, diciamo, come questo in una aula parlamentare. questo avviene, ci tengo a sottolinearlo non una ma tre volte, nel quadro della leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Per noi è un'occasione preziosa per conoscere l'atteggiamento, il punto di vista, le considerazioni della magistratura tarantina che hanno una parte importante nello sviluppo della vicenda dell'ILVA. Nello stesso tempo, proprio in omaggio a quel principio di leale collaborazione che abbiamo richiamato in precedenza, dobbiamo sapere che noi siamo liberi di fare qualsiasi domanda e considerazione al procuratore Sebastio, ma lui a sua volta ha il diritto e il dovere, su passaggi che giudicherà lui, di conservare, diciamo così, misure di riservatezza. La dico così. Allora, non staremo qui a ricordare tutta la storia dei rapporti fra la magistratura tarantina e l'ILVA, che risalgono ancora ai primi anni Ottanta. La diamo per acquisita, questo per dire è che l'attenzione della magistratura non nasce ieri, non si sono svegliati ieri a riguardo dell'ILVA, ma diciamo così c'è stato un crescendo di attenzione dovuto anche al fatto che via via le leggi di protezione ambientale in Italia, sia per iniziativa nostra, sia per il ricepimento di indirizzi più generali dell'Europa, si sono fatte sempre più puntuali e stringenti. L'audizione di oggi cade in un momento particolare che è quello che viene dopo il varo del decreto sul commissariamento dell'ILVA. Noi avevamo avviato per la verità la nostra indagine conoscitiva anche prima di questo decreto, però questo decreto cambia parecchio le carte in tavola. E quindi inizierei ponendo al procuratore Sebastio alcune questioni preliminari alle quali poi lui risponderà, poi ci sarà un giro di tavolo per tutti noi, chi vorrà integrare con sue osservazioni e domande il discorso e poi mi riservo un ultimo giro di considerazioni assieme al dottor Sebastio. Il decreto che voi tutti avete in mente comporta l'adozione di un piano di risanamento ambientale dell'ILVA che si aggiunge all'autorizzazione integrata ambientale dell'autunno scorso. La prima domanda che pongo è se questo piano ambientale sia sovraordinato all'AIA, la ricomprenda e ne possa anche modificare le disposizioni, a cominciare dai tempi di realizzazione di tutto il risanamento, ovvero se sia parallelo o sottoordinato all'AIA. Dalla lettura del decreto, e questo è un secondo punto, emerge un profilo di responsabilità che io, circa appunto l'attuazione di questi provvedimenti di risanamento, che io credo di capire ma non sono sicuro di aver capito bene, perché per un verso si dice che il commissario, nel nostro caso sarà il dottor Bondi, si avvale di un subcommissario nominato dal Ministero dell'Ambiente quanto all'opera di risanamento ambientale, ma noi sappiamo che il commissario stesso è stato nominato perché quello è l'obiettivo, non perché l'ILVA andasse economicamente male, qui non siamo all'applicazione della legge Marzano, è un'altra cosa. Quindi il commissario nominato dal Consiglio dei Ministri si avvale di un subcommissario nominato dal Ministero dell'Ambiente. Poi dopo in un secondo passaggio si indica in entrambi i soggetti appaiati la responsabilità dell'attuazione delle cose. Ergo, dall'alto della sua esperienza, dottor Sebastio, chi è responsabile di che cosa? Lei lo legge, che cosa capisce? Qui siamo in tutta una fase che ci aiuta perché poi noi dovremo anche esprimere una valutazione in sede di conversione del decreto quando dalla Camera arriverà il Senato. Per cui ci portiamo avanti così quando dovremo decidere ne sappiamo qualche cosa di più. Un altro punto è in che cosa consiste esattamente la responsabilità del commissario, del subcommissario, dell'uno dell'altro, di tutti e due. Apparentemente la risposta è facile, consiste nell'attuazione delle disposizioni di cui al piano ambientale e all'AIA. E tuttavia quando si misura l'adempimento della responsabilità, al termine del periodo indicato per la risoluzione dei problemi, per l'attuazione delle disposizioni o anche in corso d'opera seguendo il cronoprogramma che verrà indicato. E se si tratta di seguire il cronoprogramma, con quale criterio stabiliranno le tappe sulle quali si accenderà il faro del controllo. Un ulteriore punto. L'articolo 2,3 del decreto affida all'ISPRA il compito di controllare l'esecuzione. ergo dovrebbe essere l'ISPRA a segnalare alla Prefettura e alla Procura le eventuali violazioni del cronoprogramma. se intanto in quanto, mi domando, siano mere violazioni, diciamo così, che vanno comunicate alla Procura se ritenute ingiustificate, è chiaro che se dovevamo fare una cosa perché c'è il tifone, la faremo dopo. Ma se la ragione invece non è così di forza maggiore, può esserci un problema. Ma la mia domanda è, se è l'ISPRA che fa i controlli, la Procura diventa un soggetto che recepisce le eventuali segnalazioni dell'ISPRA o è a sua volta un soggetto che può essere in qualche misura attivo? Per esempio sulle segnalazioni dei cittadini, dei dipendenti, dei fornitori, di chiunque faccia una segnalazione che abbia un rilievo. L'ISPRA in questo caso fa da filtro, non fa da filtro? Perché se controlla, io questo non lo capisco leggendo il decreto, lo chiedo a lei. E chiedo a lei se sono interrogativi che hanno un senso, perché io non faccio il giurista e quindi forse magari faccio dei film che non hanno significato. Io mi fermerei qui per adesso, ma preannuncio al Procuratore e a tutti voi per dare un ordine alla discussione. che una volta, come dire, inquadrata la novità del decreto sotto questo primo profilo ci sarà un secondo profilo che riguarda i commi 11 e 12 seguenti del decreto laddove si affronta la questione dell'uso delle risorse oggetto di sequestro i famosi 8 miliardi, virgola 1 disposti dal GIP. Ma quello ne parliamo dopo perché altrimenti c'è troppa carne al fuoco. Dottor Sebastio, io mi taccio. Io ringrazio, seguio tutti i presenti e ringrazio per l'onore che ci è stato concesso, che è stato concesso a me e quindi indirettamente all'ufficio che io rappresento per questa audizione. Io cercherò di essere, per quanto mi è possibile, esaustivo, però già il Presidente vi ha evidenziato la mia è una posizione particolare, quindi io non posso assolutamente entrare nel merito di tutto ciò che riguarda l'iter delle indagini, del procedimento penale in corso e non posso neppure fare, ritengo di non poter fare, neppure delle anticipazioni, cioè anche qui, attenzione perché poi il terreno diventerebbe minato, dice Dottor Sebastio, mi pare che abbia detto il Presidente, e se si verifica questo, voi che fate? Io banalizzo un poco, mi consentirete, io cerco di evitare per quanto è possibile linguaggi paludati e di entrare proprio nel merito delle questioni. Quindi, anche perché, l'ho già spiegato al Presidente, tra l'altro io non posso parlare a titolo esclusivo. Presso la Procura di Taranto esiste un gruppo di magistrati, un pool, per dirla con un termine esterofilo, moderno, un pool di magistrati del quale io faccio parte, insieme agli altri, siamo cinque magistrati, che portano avanti questo grosso piso, perché credetemi, è un grosso piso quello che noi stiamo portando sulle nostre spalle da parecchio tempo. E quindi io non avrei titolo per poter fare delle affermazioni e delle valutazioni coinvolgendo o non coinvolgendo concretamente anche i miei colleghi. Poi, non dimentichiamo che io rappresento l'organo inquirente e quindi qualunque valutazione io dovessi fare, la dovrei fare solamente in relazione all'organo inquirente che io rappresento e non certo in relazione all'organo o agli organi giudicanti. Quindi vi rendete conto delle difficoltà alle quali io vado incontro. Per cui mi perdonerete in anticipo se a certe domande io magari dovrò essere, non voglio dire evasivo, ma insomma dovrò dirvi che magari lì non ritengo di poter dare risposta. Ciò premesso, sempre parlando prima con il Presidente, il Presidente ha fatto riferimento all'attività svolta dall'autorità giudiziaria tarantina in questo settore. Ogni tanto circolano, sulla stampa però devo dire, su certa stampa, affermazioni del tipo la magistratura adesso si ricorda fino ad oggi che cosa ha fatto la magistratura. Io lascio qui all'attenzione del Presidente e quindi di tutti voi documenti cartacei dai quali si desume non solo l'attività giudiziaria svolta dalla magistratura tarantina quando ha dovuto affrontare il problema dell'inquinamento di origine industriale che affligge la nostra città. ho fatto presente che la prima sentenza con la quale i vertici dell'Ital Cedar di Stato venivano condannati per la diffusione delle polveri, dei parchi minerali dell'Ital Cedar di Stato sul quartiere Tamburi, il quartiere più vicino allo stabilimento in questione, l'ha fissato da giovane pretore nel 1982. Da quell'epoca in poi l'autorità giudiziaria tarantina ha continuato a portare avanti altri procedimenti difficili, faticosi, complessi che si sono sostanziati in ulteriori sentenze di condanna diventate definitive, attenzione, che sono state confermate in primo grado in appello e in Cassazione. Non le sto ad elencare, ma ce ne sono state parecchie. Nel corso dei vari procedimenti penali, mano a mano, a noi autorità giudiziaria tarantina, si evidenziava anno per anno un aggravamento di una situazione di difficoltà e noi non abbiamo mancato in più occasioni di segnalare questa situazione agli organi competenti, sollecitandoli, direi quasi pregandoli di intervenire nell'ambito delle loro competenze. Io lascio qui all'attenzione del Presidente alcune lettere, lettera del 16 aprile 1998, la scrivevo io all'epoca in cui ero procuratore della Repubblica presso l'apretura circondaria di Tarantina, quando c'erano le preture, indirizzata dal sindaco, al Presidente della provincia, al Presidente della regione, nella quale si diceva guardate che stiamo facendo un procedimento, sono emersi elementi che sono preoccupanti, noi facciamo i procedimenti penali, però io vi segnalo in uno spirito di leale collaborazione tra istituzioni, noi vi segnaliamo questa situazione, voi avete delle competenze, vedete, lettera del 98, eccola qui, lettera del 7 dicembre 2000, quindi primi del 2001, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tarantina, perché all'epoca l'apretura è diventata Tribunale, firmata da me come procuratore aggiunto e dal procuratore della Repubblica dell'epoca, Ministro dell'Ambiente, Presidente della regione, Presidente della provincia, Presidente del Comune. Guardate che stiamo facendo altre indagini e la situazione ci sembra sempre più interessante. Noi facciamo i processi penali che non risolvono le questioni, d'altronde il nostro compito è quello di lavorare sul passato, non di fare prevenzione sul futuro, ma nello spirito di leale collaborazione fra istituzioni, questa frase è sempre ricorrente. Vi segnaliamo, vedete, cosa ritenete di fare. In questa lettera scrivevamo, tra l'altro io e il procuratore, l'esigenza di tutelare posti di lavoro in una terra che vive ancora drammaticamente fenomeni di sottooccupazione e disoccupazione, e ben nota a chi scrive, che se ne fa anche carico, tanto da valutare con la massima attenzione e le modalità dei propri interventi. Ma nel bilanciamento degli interessi che trovano adeguata tutela nella Carta Costituzionale, gli organi politico-amministrativi non possono privilegiarne alcuni a discapito di altri. La tutela dei posti di lavoro non può prescindere dal rispetto della salute degli operai e degli abitanti. Questa è una lettera del 2000, scritta in occasione di un altro procedimento penale. febbraio 2012, quando era ancora in corso l'incidente probatorio e non erano stati emessi i provvedimenti di sequestro, a mia firma, indirizzata ai soliti organi che vi ho detto prima, Ministro dell'Ambiente, Presidente della Regione, Comune, e sostanzialmente si dicono le stesse cose. Audizioni parlamentari che io ho reso alla Commissione Pecorella il 21 febbraio 2012, quando ancora non c'erano stati i provvedimenti di sequestro, e poi successivamente nel mese di settembre 2012. E qui c'è il testo. Insomma, voglio dire, quando ci si dice che cosa ha fatto la magistratura tarantina in questi anni, adesso si ricorda, consentirmi di dire che mi dispiace sentirci rivolgere queste accuse. Certo, non siamo perfetti, probabilmente abbiamo avuto anche noi dei ritardi, forse abbiamo commesso degli errori, sicuramente avremmo commesso degli errori, però insomma, sentirci dire che cosa avete fatto fino a oggi, adesso vi state svegliando. Poco, poco, ma qualcosa l'abbiamo fatta. Poi siamo arrivati a questo processo, perché poi, quando poi noi apprendiamo che vengono abbattuti duemila capi di bestiame, perché le loro carni sono inquinate dalla diossina e vediamo che le coltivazioni di mitili di Mar Piccolo, una delle nostre ricchezze, vengono distrutte perché sono inquinate, e poi sentiamo dire che nel latte delle gestanti si trovano tracce di diossina. Beh, insomma, a questo punto noi dobbiamo obbedire al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. E se ci sono dei reati in fase di commissione, voi conoscerete le due relazioni redatte dai tecnici ufficiati dal GIP nel corso dell'incidente probatorio, relazione chimica e relazione medica, sanitaria. Sono veramente allarmanti, sono state contestate ex adverso, ma a tutt'oggi sono state preannunziate da parte dei nostri contraddittori delle controperizie, che però a tutt'oggi non sono state ancora depositate, è passato più di un anno, un anno e mezzo, stiamo ancora aspettando queste controperizie. Allora, questa è la situazione, siamo intervenuti, abbiamo adottato qui i provvedimenti, non ve li sto a ricapitolare, li conoscerete bene, c'è stata la prima legge, il decreto legge, trasformato poi in legge, avevamo delle perplessità, abbiamo sollevato una questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha deciso, noi, nell'assoluto rispetto delle prorogative della Corte Costituzionale, abbiamo dato atto, c'è stata chiarita l'impostazione, abbiamo dato esecuzione appena letta la motivazione alla sentenza stessa e andiamo avanti. Adesso abbiamo dovuto chiedere, e il GIP ha dovuto emettere, questo provvedimento di sequestro per equivalente previsto dalla legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quindi non confondiamo con il sequestro adottato dalla Procura di Milano, il sequestro della Procura di Milano riguardava altro tipo di reati e colpiva il patrimonio delle persone fisiche, noi invece abbiamo dovuto utilizzare la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e quindi noi ci dobbiamo interessare solamente del patrimonio delle persone giuridiche, non delle persone fisiche e il GIP nel suo provvedimento ha detto sequestrare per equivalente tutti i beni di pertinenza dell'ILVA e delle società collegate, essenzialmente riva-fide, però noi abbiamo chiesto e il GIP lo ha precisato, abbiamo detto attenzione, c'è però nel momento in cui noi chiediamo di sequestrare i beni di proprietà dell'ILVA, siccome è vigente la legge 231, l'ultima, perché poi manca farla apposta, la legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ha lo stesso numero 231, quindi la legge 231 ultima, attenzione, non possiamo minimamente toccare alcuna parte del patrimonio dell'ILVA-SPA, della società ILVA-SPA, che abbia attinenza diretta e indiretta con la produzione, perché la produzione per legge è libera e consentita a quelle condizioni che la legge prevede e quindi abbiamo dovuto cautelare il nostro intervento escludendo l'aggressione a qualunque bene, sia in termini finanziari, economici, che in termini patrimoniali, immobiliari, eccetera, che comunque di pertinenza della ILVA-SPA, ma che avessero attinenza con l'attività di produzione. E poi il stesso provvedimento nei confronti della capofilla, di rivafire ed eventualmente delle altre società interessate. Le attività, le indagini sono ancora in corso da parte della Guardia di Finanza per cercare di dare esecuzione a questo provvedimento di sequestro, quindi non conosco ancora, né sono in grado quindi di potervi dire oggi, quali saranno i risultati della attuazione di questo provvedimento di sequestro. Nello stesso tempo è in corso, come era giusto, preveribile, legittimo che fosse, è in corso l'esame da parte del Tribunale, dell'esame, del ricorso proposto dalle varie società interessate avverso questo provvedimento di sequestro. Domani proprio ci sarà la discussione finale, poi il Tribunale si riserverà, prenderà le sue decisioni e quindi voglio dire, sotto questo punto di vista è inutile fare anticipazioni, non sappiamo ancora di cosa, di quanto stiamo parlando e ne sappiamo neppure se questo provvedimento di sequestro è destinato a cadere, in tutto o in parte, oppure se è destinato ad essere confermato, quindi è inutile stare a fare questione o anticipazione sul punto specifico. Aggiungo che noi abbiamo rilevato, guardate sono provvedimenti normativi, legislativi piuttosto complessi e delicati e non vi nascondo, noi ce li stiamo studiando, anche perché qua non scherziamo, queste sono cose e quindi li stiamo studiando e stiamo cercando di approfondirli virgola per virgola, parola per parola e quindi ancora valutazioni definitive non ne possiamo fare. Ma a me sembra di aver inteso che la differenza sostanziale tra la legge e il decrito legge è che nella legge, ve lo riassumo così, nella legge si diceva, allora occorre effettuare questi lavori di risanamento, non di bonifica, perché la bonifica è un'altra cosa, la bonifica è un qualcosa che può intervenire solo dopo che sono state eliminate le fonti di inquinamento. Se io ho un rubinetto aperto che butta acqua sul pavimento e io non comincio cercando di asciugare l'acqua per terra e lascio il rubinetto aperto, perché sarebbe assurdo, io prima devo chiudere il rubinetto e poi cerco di asciugare l'acqua. Quindi attenzione, non usiamo il termine bonifica, la bonifica dovrebbe intervenire in un secondo momento, e cioè dopo che si sia posto fine a questi fenomeni di inquinamento che, attenzione, io vi ricordo sempre la presunzione di innocenza, sono tutti da accertare. Qua siamo in presenza di ipotesi di reato, non di reato, perché non ci sono ancora sentenze. Allora, qui noi dobbiamo parlare di lavori per rendere, di opere, per rendere semmai ecocompatibili, ecco, forse è più esatto usare questo termine, questo impianto, ammesso che effettivamente ci siano queste situazioni negative che sembra emergano dall'istruttoria svolta fino a questo momento. Allora, nella precedente legge il legislatore sostanzialmente diceva, lo banalizzo, diceva che occorre fare questi lavori, per fare questi lavori chiaramente occorre un certo periodo di tempo, affido a te azienda, restituisco le chiavi dello stabilimento, ripeto, uso termini banali, mi perdonerete, restituisco a te azienda le chiavi di questo stabilimento, io ti controllo, fai questi lavori e ti do questo lasso di tempo, c'è il garante che ha il compito di controllare, eccetera, eccetera, e poi vediamo. Con questo nuovo decreto legge si dice qualcosa di diverso, se ho inteso bene, non prendete come vangelo le mie affermazioni perché sono suscettibili ancora di ulteriori interpretazioni e moriremo, così a prima vista mi sembra di aver capito che il nuovo legislatore, il legislatore che ha emesso il decreto legge abbia detto, allora, azienda X, ritengo per una serie di motivi tu non sia particolarmente affidabile nella spontanea esecuzione di questi lavori, allora io ti vieto temporaneamente la gestione dell'azienda e dello stabilimento e l'affido invece ad un organo terzo, e cioè al commissario governativo che poi sarà coadiuvato da un subcommissario, che poi saranno coadiuvati da tre, mi pare, esperti, e poi rimane un po' nell'ombra la posizione del garante, quello nominato con la precedente legge, del commissario per le bonifiche e così via, ma siamo in sede di conversione, presumo che a queste forse improprietà si potrà porre rimedio nel liter che porterà alla conversione legge. Quindi sostanzialmente si è detto, non è opportuno che questi lavori vengano affidati a te, azienda, li affidiamo a un organo terzo, il quale farà quello che deve fare. E poi si aggiunge anche un'altra cosa, e si dice, siccome per fare questi lavori occorre del denaro, è chiaro. Allora io devo dire da un punto di vista egoistico che questo decreto legge indirettamente, perché voglio dire che quasi rafforza, diciamo tra virgolette, la nostra iniziativa, perché mi sembra di capire da quella norma che voi avete ben presente, nel momento in cui dice, e allora se l'autorità giuridiziaria nel frattempo ha sequestrato sequestrato del denaro, non gli immobili, perché gli immobili li devi lasciare, se no veramente sarebbe un'espropriazione, invece il denaro, mentre la normativa ordinaria prevede che il denaro rimane sequestrato fino all'eventuale sentenza di condanna definitiva e quindi fino alla confisca, nel frattempo non si può toccare, invece il legislatore ha detto, allora se l'autorità giudiziaria, come nel caso specifico ha sequestrato, questo denaro lo puoi utilizzare, non è una vera espropriazione, secondo me, per carità, perché non è l'immobile che viene acquisito e magari venduto per ricavarne denaro, lì ci sarebbero probabilmente dei problemi, il denaro viene incamerato e eventualmente dice, se un domani venga la sola, se un domani venga la sola prescindendo da queste valutazioni, quindi il legislatore nel momento in cui ha adottato questo decreto legge, sostanzialmente ha detto, bene, bene questo sequestro, allora tu commissario usalo, non lo lasciamo fermo lì, credo che si debba interpretare in questa maniera, però io vi ho fatto una premessa, oggi io sono normalmente l'uomo del dubbio, io sono assillato continuamente da dubbi, figurarsi in una vicenda del genere, quindi non prendete le mie affermazioni come Vangelo, tutt'altro, fate voi poi le vostre considerazioni, tanto che addirittura mi viene fatto di pensare che se il tribunale di esame dovesse annullare, perché può accadere questo provvedimento di sequestro, per motivi adesso che accogliendo certe tesi difensive, per carità, questo annullamento potrebbe semmai forse limitare l'attuazione delle norme previste dal decreto legge e non il contrario, ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, e allora diceva il Presidente, e quali sono le responsabilità del commissario? Era una prima domanda, e attenzione, questo è un punto che noi dovremo approfondire, anche perché se ricordo bene c'è un altro paragrafo successivo della legge, nel quale si fa riferimento a responsabilità anche di tipo penale del commissario, è detto da qualche parte in questo decreto legge, ma ripeto, noi anche egoisticamente parlando, siccome è in corso la procedura di conversione in legge, e allora prima di scervellarci su questi dubbi che sarebbero comunque a futura memoria, io dico, intanto studiamo la questione, ma intanto vediamo come evolve la conversione, vediamo quale sarà la legge, perché è possibile che la legge di conversione preveda delle modifiche rispetto al decreto legge. E poi dice ancora il Presidente, quando bisogna controllare il corso d'opera, per dire tipo gli appalti, bisogna aspettare il passaggio, la conclusione dei tre anni, adesso però sono due anni e mezzo, perché il tempo passa, dei due anni e mezzo e dei tre anni per stabilire se il commissario ha fatto bene, ha fatto male, ha tempiuto in meno, e poi chi farà le valutazioni finali? Chi è che farà, ritornando alle procedure di appalto, il certificato di collaudo e di presa in carico dei lavori? Ma anche qui io prevedo che ci saranno dei perfezionamenti nel testo della legge, cronoprogramma, le tappe e quali sono le tappe, e questo è un po' tutto da chiarire, perché anche qui sarà necessario approfondirli questi aspetti nella procedura di conversione, perché dire puoi arrivare fino a tre anni, fino a 36 mesi, e attenzione che c'è una normativa europea recepita, che parla invece di deroghe per non più di sei inizi. Anche questo punto deve essere chiarito. L'ISPRA sicuramente ha dei compiti di controllo, e vi devo dire che un primo esempio lo abbiamo già avuto, perché proprio l'altro giorno abbiamo ricevuto una prima relazione da parte dell'ISPRA, non rivelo nulla di riservato o di segreto, perché tra l'altro questa comunicazione è stata depositata agli atti, nella quale comunicazione l'ISPRA, fra le varie cose, pone un accento dolente sulla reiterarsi dei fenomeni dello slooping. Che cos'è lo slooping? E allora, lo slooping è quel fenomeno dovuto a un malfunzionamento degli impianti che provoca, determina emissioni di nuvole, di nuvi, di nuvole rossastre, nere, via dicendo, piene di contenenti grossi quantitativi di sostanze inquinanti, che vengono emesse dagli impianti, per un fenomeno di malfunzionamento di questi impianti. Lo slooping è proprio vietato per legge, cioè non è che bisogna andare a vedere se sono stati superati o meno i limiti di tabellare. Lo slooping è vietato, punto e basta, non ci può essere. E allora l'ISPRA in questa comunicazione dice che in un periodo di dieci mesi, cioè da febbraio a dicembre 2012, quando già c'era l'AIA e poi era arrivata anche la prima legge, il decreto legge della prima legge, avevano dovuto constatare, per averlo ammesso l'ILVA, nelle sue dichiarazioni che si erano verificati dal febbraio al dicembre 2012, ben 240 fenomeni di slooping nelle due acciaierie dell'ILVA, il che appare eccessivo per un fenomeno che dovrebbe essere in via di eliminazione. Quindi come vedete l'ISPRA, l'ARPA Puglia da una parte e l'ISPRA perché sono collegati tra loro, sta svolgendo attività di controllo e quindi con ciò penso di aver più o meno risposto, sia pure in maniera non esaustiva, parziale, al quesito posto dal Presidente. E poi basta, mi pare che non devo aggiungere altro, almeno sulla base di quelle che erano le prime domande. Prima di dare la parola ai colleghi, lei ha introdotto un elemento estremamente interessante su cui le chiederei un chiarimento perché non tutti avremmo capito. Laddove dice che la normativa europea limita a sei mesi le deroghe dalla legge, se ho capito bene, mentre il decreto assegna 36 mesi, ma non il decreto, l'AIA stessa assegnava 36 mesi e il piano ambientale potrebbe anche ripensare i tempi e dire sono 24 i mesi oppure dire sono 42. Il piano ambientale non sappiamo che cos'è ed era per questo che le chiedevo se e in che misura potesse essere sovraordinato all'AIA. Ma in ogni caso, questo tema dei sei mesi e dei 36 mesi può diventare una difficoltà? Ma attenzione, è una questione che io ho solamente adombrato, è una questione di carattere tecnico-giuridico, è tutta da vedere perché poi dovremmo andare a vedere la giurisprudenza della comunità europea, la sentenza Simmental, la società Simmental, una sentenza alla fine degli anni 70 con la quale la Corte Europea di Giustizia si è pronunziata già sull'argomento e poi bisognerebbe entrare nel merito e cioè se questi dispositivi, queste disposizioni di questa giurisprudenza europea riguardano anche gli impianti dei privati e poi se si debbano applicare solamente nel caso di ci sia un effetto orizzontale, cioè un effetto diretto verso i privati e poi se siano applicabili solamente nel caso in cui venga escluso l'applicazione del diritto nazionale, il cosiddetto effetto di esclusione, oppure se sia applicabile anche nel caso in cui si voglia sostituire il diritto nazionale, effetto di sostituzione che non è consentito dalla normativa europea, cioè voglio dire, io vi ho lanciato così un accenno, la questione è estremamente complessa e quindi l'impostazione che ho dato, quella segnalazione che ho fatto, ma è una segnalazione che è interessante nel senso che ci può essere un approfondimento, ma lungi da me affermare recisamente perché quando si parla di queste cose e si entra in un settore di estrema specializzazione, facciamo le persone serie, io cerco di fare la persona serie, accenniamo a queste ipotesi, però sono tutte da verificare, ma i problemi giuridici ci sono, d'altronde la comunità europea mi sembra che si stia muovendo anche, mi sembra di aver letto sui giornali, adesso non conosco con precisione, ma insomma un certo interessamento da parte della comunità europea mi sembra che ci sia, sia in itinere, non lo so, va bene, ma intanto pensiamo diciamo alle cose nostre, alle cose che ci riguardano più da vicino, poi si verrà. Grazie per questa prima esplorazione, la parola al senatore Tomaselli, si preparino Petrocelli e Donghia. Grazie Presidente, grazie Procuratore, ovviamente abbiamo tutti i contezzi di quanto sia delicato diciamo questo nostro incontro perché stare sul filo diciamo del rispetto reciproco delle autonomie di così importanti attori istituzionali quali il Parlamento da un lato e la magistratura dall'altro è come dire un assillo che ci muove tutti e quindi ovviamente anche il merito della nostra audizione e anche delle considerazioni devono partire da questo reciproco rispetto insomma come lei giustamente anche riconosciuto. Mi permetta solo all'inizio avendo fatto lei, avendo iniziato lei ricordando il suo personale ma quello della magistratura di Taranto, pluriannale e pluridecennale impegno in questa direzione, i colleghi lo sanno, lo dico a lei la prima volta che ci incontriamo, anche da parlamentare pugliese che vive a non moltissimi chilometri da Taranto diciamo, conoscendo bene la realtà non solo di quello stabilimento ma di quella città, io sono andato a rileggermi gli interventi che ho fatto nella scorsa legislatura quando abbiamo discusso qui dell'altro decreto, quando abbiamo discusso dell'informativa del governo subito dopo l'estate e ho trovato una frase che io reputo ancora attuale detta in quella occasione nell'aula del senato e che qui intendo ribadire il riconoscimento dell'attività meritoria che la magistratura di Taranto ha compiuto in questi anni, in questi molti anni, svolgendo anche un'attività credo che sia doveroso anche riconoscere, un'attività di supplenza rispetto ad altre istituzioni ma ad un complesso di forze sociali, di soggetti collettivi che attorno alla vicenda di quella che era Little Sider e poi l'Ilva del più grande stabilimento siderurgico d'Italia e di uno stabilimento a ridosso di una città grande come Taranto, insomma, io credo che ci sia una responsabilità che vanno ben oltre insomma e che poi un giorno forse non più la cronaca ma la storia in qualche modo si incaricherà di elencare. Detto questo ovviamente siamo dentro una grandissima contraddizione in cui ognuno di noi per le competenze istituzionali a cui è chiamato deve poter svolgere il proprio compito. In particolare per quanto ci riguarda dall'inizio io credo il Parlamento, anche i governi che si sono mossi negli ultimi mesi, si sono posti il tema di come ottemperare alla esigenza non più rinviabile che faceva anche e teneva anche in debito conto ma se posso permettermi di dire erano maturate forse anche le condizioni a prescindere ma ovviamente non si può prescindere da atti anche clamorosi che sono stati compiuti e assunti dalla magistratura. Come si potevano creare le condizioni giuridiche, legislative, normative affinché si potessero tenere insieme? So che questa è una discussione che rischia di diventare anche stucchevole e retorica ma davvero mi riesce difficile immaginare che si possa prescindere da questo obiettivo. cioè l'idea di tenere insieme diritti sacrosanti, quale il diritto alla salute e il diritto alla tutela dell'ambiente, con la tutela di così tante migliaia di posti di lavoro. E in questo senso credo che, insomma, io ho giudicato, abbiamo sostenuto in questi mesi gli atti di governo, facendoli diventare legge dello Stato, sia nella parte terminale dell'altra legislatura che ci apprestiamo a fare anche in queste prossime settimane che verranno. Quindi se posso richiamare due questioni, partendo da questo assunto, cioè questo sforzo di tenere insieme questioni che oggi sembrano apparire, viste da Taranto, se posso permettermi, appaiono più di quanto possiamo vederle da Roma situazioni difficilmente compatibili, tenere insieme le due questioni. La legge 231, la seconda, quella di conversione in legge del primo decreto della scorsa estate, ha assunto un tema rispetto al quale io mi sento di farle, credo di poterle fare questa domanda, ha assunto un tema risanamento, come lei giustamente richiama, che è altra cosa dalla bonifica, necessario e indispensabile per poter continuare a produrre, ovvero la necessità che si mettessero in atto tutti quegli interventi di carattere tecnologico, impiantistico, di sicurezza dell'ambiente e della salute, che ottenessero da un lato il risultato di abbattere immediatamente gli inquinanti e avviassero anche il processo più strutturale di risanamento e di bonifica dell'area, sia dello stabilimento che della città del porto di Taranto. Come premesse, come condizione indispensabile per poter continuare la stessa produzione. E se posso dire, in un ragionamento che vale anche al contrario, nel senso che, almeno questo è lo spirito, io credo, anche del legislatore, solo la garanzia della continuità della produzione, solo, come dire, l'elemento della continuità della produzione era garanzia che si potessero fare gli interventi di risanamento ambientale e poi successivamente di bonifica. Quello che è accaduto nei mesi successivi, ce l'ha detto l'ISP da qualche giorno fa, che attraverso lo strumento normativo che ha sanzionato questo concetto, questa sintesi, diciamo così, a seguito anche della legge 231, ovvero l'applicazione dell'AIA, in questi mesi ha visto, io ho chiesto l'altro giorno, ribadisco qui la domanda, una sorta di attività dilatoria da parte dell'azienda, probabilmente, perché quando l'ISP viene qui a dirci che nella prima visita del marzo scorso, credo, ben 11 prescrizioni sono state accertate, ben 11 violazioni di prescrizioni sono state accertate e tra l'altro violazioni anche consistenti che riguardano la logistica dei materiali, il processo produttivo, il tema delle emissioni, lo slooping di cui parlava lei e così via. Mi chiedo se questo tema c'è o meno, insomma, di una sorta di attività, perché era in capo all'azienda questa responsabilità. E qui si collega anche il secondo intervento, questo è nato in parte anche a seguito, diciamo, dell'intervento ulteriore della magistratura, di cui io ovviamente non discuto qui, perché per la premessa che ho fatto non siamo qui a discutere gli interventi della magistratura. Ovvero la necessità che con un ulteriore provvedimento di legge si definisse una temporanea, chiamiamola così, sterilizzazione della proprietà dell'azienda nella gestione dell'attività, affidandola ad un soggetto terzo, che tornasse ad avere disponibilità rispetto anche qui all'intervento della magistratura, dei beni dell'azienda, come dire, votando, vocando questo tipo di disponibilità a fare più tempestivamente, più puntualmente, gli interventi previsti dell'AIO. Cioè io ho compreso che questo è lo sforzo che abbiamo fatto in questi mesi, anche dal punto di vista, diciamo, dell'iniziativa del legislatore. Quindi insomma, a lei io penso di poter chiedere se questa concatenazione di norme in qualche modo, al netto ovviamente dall'iniziativa autonoma della magistratura, oggi ci può stare più sereni rispetto all'obiettivo da cui io sono partito. Cioè tenere insieme risanamento come condizione per poter continuare a produrre, ma nello stesso tempo la produzione è l'unico elemento che ci garantisce che si facciano le opere di risanamento. Perché altrimenti se non si ribadisce che questo asse tiene insieme entrambe le questioni, rischiamo di non avere né l'uno né l'altro. Io farei, raccoglierei qualche domanda. Petrocelli. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle e il Procuratore per essere intervenuto e per essere così disponibile. Riguardo a quello che già diceva il collega, ma anche a quello che citava lei velocemente nella sua relazione. Io mi chiedo, in una situazione come quella dell'Ilva di Taranto, che anch'io vivo con un po' di enfasi particolare, visto che sono nato a Taranto in Viale Magna Grecia, giusto così come titolo di cittadinanza. E' andato via il microfono. Come? Proprio lì, proprio lì, esatto. Vivo a Matera, sono Lucano e mi sento vicino alle questioni, ma lo sarei comunque in quanto rappresentante in Senato. Io ho letto, proprio qualche giorno fa, il testo della sua audizione nella passata legislatura, nella Commissione Rifiuti, nella Commissione Pecorelli, esatto. E lì, francamente, mi sono ritrovato in un passaggio, se non ho capito male. Riassumo il senso del suo passaggio. Quando ci troviamo davanti a dover scegliere tra tutela dell'occupazione e tutela della salute pubblica e dell'integrità del territorio, al di là di dover coscientemente fare una riflessione su questo, c'è pur un momento in cui bisogna prendere una scelta. Io sono d'accordo, bisogna prendere una scelta, io sarei per scegliere la tutela della salute pubblica e dell'integrità del territorio. Ma naturalmente è una posizione personale. Io coglievo, forse, in alcune righe del suo intervento, il medesimo indirizzo, la medesima preoccupazione, il medesimo fine in questa riflessione. Perché la città di Taranto, con la questione ILVA, ha vissuto per decenni. Non solo ILVA, naturalmente, c'è la Cementir, ci sono altre emergenze, c'è il petrolchimico e così via. Ma ILVA, soprattutto, ha una questione che ha un problema che riguarda proprio la struttura produttiva del sito. È un sito che è grande dieci volte, mi pare, se non vado errato, la città di Taranto. Quasi a dieci volte da quello che mi risulta come estensione, però magari mi sbaglio, ma comunque, due volte solo, ma comunque dieci volte sarebbe troppo. Quasi fosse che la città di Taranto è cresciuta intorno all'ILVA e non il contrario. I problemi che si porta dietro, naturalmente, l'ILVA sono problemi che riguardano proprio la capacità produttiva dell'azienda, tanto per cominciare. L'azienda ILVA è l'unica acciaieria in Europa che è dotata di cinque altoforni e sarebbe in grado di produrre fino a 15 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. È un'azienda che però soffre di un problema fondamentale che è quello del gigantismo industriale. Il gigantismo che è vincente in una fase di crescita economica e produttiva, ma che assolutamente non è il caso nel quale ci troviamo oggi, perché ci troviamo in una fase, anzi, al contrario della crescita, in una fase di contrazione. E mi pare che quindi impianti come quello di ILVA oggi risulterebbero sottoutilizzati e con costi fissi che ricadono negativamente sul bilancio economico dell'azienda. Sì, naturalmente. ILVA poi ha sicuramente problemi di innovazione tecnologica, ha problemi di inserimento nel mercato europeo e tante altre questioni che, tutto sommato, io ritengo, abbiano poi portato all'inadempimento dell'azienda su questioni che riguardano la tutela della salute umana e del territorio. Arrivo alla domanda per chiudere il discorso. Se è vero che, lei citava anche alcune direttive europee, se è vero che sulla base del principio è enunciato dalla direttiva europea 35 del 2004, che chi inquina paga, per quello che risulta dalle indagini che avete svolto, a suo parere le amministrazioni locali, e in particolare la provincia di Taranto, per essere proprio esplicito, hanno nel tempo ottemperato al principio di individuare le fonti inquinanti, oppure no. Grazie. La senatrice Donghia si prepari consiglia. Grazie signor Presidente, grazie signor Procuratore. Oggi leva un po' male perché siamo quasi tutti pugliesi, pochi però molto concentrati. Siamo tutti molto interessati alla cosa. Devo dire che le date che ci ha riferito ci devono far riflettere molto, perché lei ha parlato di una prima sua lettera, di un suo primo procedimento fatto 31 anni fa, quando io ero ancora una ragazza e da allora sono quasi passate due generazioni e noi continuiamo a far male alle generazioni. Io devo dire che non sarei d'accordo nel chiudere oggi l'acciaieria, perché poi l'acciaio è uno dei materiali primari per la nostra economia e noi non possiamo permetterci come italiani prima di finire questa deindustrializzazione e poi andare a cercare i posti di lavoro perché diventa molto complicato. Invece io mi sono informata, ci sono dei siti forse un po' più piccoli di quello dell'Ilva, ma che stanno benissimo vicino alle città in Europa, nel mondo, che non inquinano, che hanno i nastri trasportatori coperti. Voi avete vicino Matera, leader mondiale del trasporto a caldo, leader mondiale sta là a due passi, fa queste cose in tutto il mondo e noi purtroppo non riusciamo a fare le cose in Italia. Quindi il problema è che noi abbiamo poche aziende giganti in Italia, dovremmo avere un po' di più perché poi il nostro onanismo soffre nei confronti della concorrenza. Il grande problema è avere quest'azione di controllo, secondo me, continua anche da parte vostra. Forse noi ve lo chiediamo più come cittadini che come parlamentari, ma come parlamentari noi poi dovremmo vedere di avere un'azione continua di controllo sulle cose da fare. Io sono d'accordo con lei quando dice 36 mesi, 6 mesi, tutto sta nel volerle fare le cose, perché se è passato un anno e ancora non è stato fatto, io ho letto delle cose, quello che nel 2009 era stato da parte dell'azienda, riferito come ha attuato la copertura dei nastri trasportatori. Nel 2009 l'azienda ha rilasciato un documento dove diceva che quella cosa era già stata fatta. Quindi l'inaffidabilità di questi imprenditori va gestita con un'azione di forza e con un'azione anche di tempi certi. Quindi la mia domanda era una. Innanzitutto se voi come procura potete continuare ad avere un'azione di controllo sull'operato e su quello che si andrà a fare. E poi un'altra domanda. Lei prima ha citato il discorso di tutti gli allevamenti che sono stati un po' e io la conosco bene la situazione perché sono di noci, quindi anche il problema del latte, il problema delle colture, il problema dei mandarini, degli aranci, delle note cozze tarantine che erano sicuramente un grande pregio, una grande buona cosa. Per tutti questi danni invece. L'ILVA, l'azienda, ha mai pagato nulla? Quindi queste erano le mie due domande. Grazie. Senatore Consiglio. Grazie. Grazie Presidente. Io non sono della Puglia, sto a Bergamo, però sono campano, per cui c'è un po' di Macedonia nel mio... Un provvedimento... Grazie Presidente, grazie Signor Procuratore per essere intervenuto in questa Commissione. Credo che la sua posizione discretamente complessa verrà da noi sicuramente apprezzata nelle risposte dove cercheremo di capire quando lei tende a non rispondere o a rispondere magari solamente in parte. La comprendiamo e se vuole in una battuta la scusiamo per questo. Ci sta. Nella passata legislatura abbiamo sviscerato molto questa problematica. C'è da dire che la questione dell'ILVA di Taranto è come se i cittadini di Taranto avessero vissuto per moltissimi anni con il naso su un comignolo. E hanno respirato dalla diossina altre polveri sottili, di tutto. E dispiace molto pensare che un'azienda statale fosse poi un po' così svenduta nel 1995 a un privato. E a questo privato non è stata diciamo così data l'obbligo della sistemazione, visto il prezzo d'acquisto che era eccessivamente forse anche giustamente basso per una questione legata a degli ammodernamenti che non erano mai stati fatti negli anni. Solamente che i nuovi proprietari probabilmente hanno, dico probabilmente ma quasi sicuramente, hanno cavato il sangue dalle rape, hanno avuto guadagni di un certo tipo e gli investimenti non sono stati probabilmente nemmeno così, non dico sufficienti ma sicuramente molto scarsi per quanto riguarda l'ammodernamento degli impianti. e quindi tutta quella capacità che l'azienda doveva avere per mettere in condizione l'azienda soprattutto nel contesto poi in cui si era collocata di non inquinare. Ho dato un'occhiata alla superficie tra mare e terra dell'azienda, è impressionante e credo che abbia messo in condizione proprio tutti gli elementi di essere inquinati, dal mare alla terra all'aria. Questo vuol dire che anche la questione legata a un'eventuale, diciamo così, bonifica, che io non gradisco chiamare bonifica perché la bonifica mi dà sempre l'idea di qualcosa che è dismesso e viene sistemato dopo che l'attività è conclusa, ma preferirei parlare di ammodernamento, preferisco parlare di, diciamo così, di atteggiamento positivo nei confronti di un'azienda che deve comunque continuare a lavorare ma che nel futuro immediato però deve essere messa in condizione di poter essere, diciamo così, produttiva, non perdere forza lavoro ma essere messa in condizione di non inquinare così tanto. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è la questione dell'Europa. L'Europa è sempre molto attenta a dare multe a Google, all'Italia, abbiamo 150-160 procedure di infrazione e molte delle quali sono legate alla questione dell'inquinamento. Qui non mi risulta che ci sia una procedura di infrazione, anche se siamo sotto osservazione, diciamo così, molto, molto, molto attenta. L'Europa ci dice sei mesi, vero? Noi col decreto ne abbiamo considerati 36, probabilmente non saranno sufficienti neanche 36. Questo però dà l'idea della complessità della problematica, assolutamente complessa. Qui è un ginepraio probabilmente dove prima passa il topolino, si graffia, poi passa il gatto, si graffia, passa il cane, si graffia, l'elefante si graffia. Forse era il caso in un certo momento storico di questa azienda far passare direttamente l'elefante in modo tale che si graffiava solamente lui e le altre sarebbero passate senza ferirsi. Ci si sta ferendo un po' tutti. Chi ha la proprietà probabilmente non è stato accorto, chi ha la gestione politica della zona e quindi la domanda che ha fatto il senatore che mi ha preceduto, io la sottoscrivo se mi dà l'ok. La questione legata all'impatto economico e l'impatto sociale perché poi tutte le problematiche legate all'inquinamento hanno creato sicuramente un costo sociale che andrebbe sicuramente a essere detratto dai benefici che il privato ha avuto. La mia domanda è molto semplice, come si può pensare, e ne abbiamo parlato in un'altra audizione, credo dell'antitrust l'altro giorno, come è mai pensabile che delle aziende estere possano investire in Italia se, lei parlava della prima lettera che è mandata nell'80-82, se c'è una procedura di verifiche anche sulle questioni legali così lunghe e a volte anche complesse nella gestione. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola per, diciamo così, le risposte conclusive al procuratore capo Sebastio, non si dice capo, capo? Come si dice? Procuratore. Procuratore. E basta. Molto bene, e la ringrazio. Vorrei chiedere, faccio delle domande per capirne di più, poi i giudizi li esprimeremo alla fine del nostro percorso, non oggi, per quanto riguarda in me. quando ha accennato al fatto che il sequestro è orientato a, diciamo così, fatte salvo le risorse dell'ILVA che servono all'ILVA per lavorare, il sequestro per equivale, esattamente. La cosa si estendeva invece, il sequestro si estendeva alle, diciamo così, risorse delle società, persone giuridiche collegate all'ILVA, e citava Riva Fire, Fire, sì, perché non è come il fuoco americano, ma significa finanziario e industriale Riva Emilio. Ecco, Riva Fire in realtà non è una collegata, ma è il soggetto controllante l'ILVA, sia direttamente, sia come risulta dalle mie carte, diciamo così, per mezzo di una società lussemburghese, la Stalbetailungenholding, che è una lussemburghese, tutte assieme fanno più o meno l'87% del capitale dell'ILVA. Il 13% del capitale dell'ILVA è detenuto quanto a circa il 10% dal gruppo, da una finanziaria olandese del gruppo Valbruna di Vicenza, di proprietà della famiglia Amenduni, e quanto a quasi il 3% dalla finanziaria lussemburghese Albest, che, se la memoria non mi tradisce, è in qualche modo collegata al gruppo generali, la mia domanda è se il sequestro in oggetto riguardi soltanto il gruppo Riva Fire o se anche gli altri soci. Secondariamente, se è materia che riguarda la competenza della Procura e non quella del GIP, non lo so, io gliela chiedo così da ignorante, ed è questa somma di 8 miliardi di cui si parla nel provvedimento, l'avete indicata voi o l'ha costruita il GIP? Questo mi può rispondere subito con un sì o no, perché se mi dice che non l'avete indicata voi non vado avanti. L'avete indicata voi, perfetto. e l'avete indicata sulla base delle relazioni, perfetto. E qui abbiamo dato un'occhiata sia al decreto del GIP, di cui naturalmente parla il GIP, e quindi noi su questo ci fermiamo, ma il GIP fa riferimento nel determinare quella cifra a una relazione fatta dai custodi, amministratori custodi, e spiega che la cifra di 8 miliardi si giustifica come profitto del reato intanto in quanto il profitto del reato si ha perché i beneficiari, in questo caso gli azionisti, e per questo che la mia domanda si riferiva anche se c'erano le minoranze, eccetera, eccetera, dell'ILVA, della società ILVA, che ha più siti, ma che in particolare è quello di Taranto, non hanno fatto gli investimenti che dovevano fare sul piano ambientale. Ecco, qui le chiedo un chiarimento per la mia ignoranza giuridica da una parte che credo sia condivisa da larga parte dell'Aula e un altro chiarimento invece nella lettura della memoria dei custodi. Quello che io non capisco è il concetto di profitto del reato perché un investimento significa che io metto con una certa somma di denaro compero un qualcosa che può essere una partecipazione azionaria piuttosto che dei BTP oppure in questo caso dei beni strumentali. Quindi l'investimento in prima battuta è la trasformazione di denaro in cose ma è sempre la stessa, cioè alla fine nell'attivo patrimoniale in prima battuta è sempre quella somma che gira. La differenza fra il denaro e le cose è che il denaro può dare un rendimento, un interesse, una cosa così e le cose vengono impiegate in un processo industriale che se abbiamo fortuna e capacità ci darà un profitto se non abbiamo fortuna e non abbiamo capacità ci darà una perdita. Il non aver speso quei quattrini e l'identificarlo con un profitto è una cosa che la mia logica non riesce a comprendere. No, fantasia, non lo so. Io glielo chiedo perché ci saranno dei criteri per i quali si arriva a dire questo e siccome poi le cose vanno difese anche da parte nostra voglio dire le iniziative e così via noi saremo tanto più bravi a fare il nostro lavoro quanto più avremo capito ciò di cui parliamo. Questa è la mia preoccupazione in generale. In particolare invece nella lettura dell'atto diciamo così, dei custodi con l'aiuto dei nostri valenti collaboratori abbiamo fatto l'elenco degli interventi previsti diciamo e del relativo ammontare di ciascuno facendo la somma. E qui sorgono secondo me due problemi. Il problema di carattere generale è come i custodi hanno stabilito che un certo intervento comporta un onere di faccio per dire vedo le cifre cito a caso 5 milioni piuttosto che un altro 180 un altro ancora 500 un altro 35 un altro 300 eccetera eccetera Nel senso che è tipico di tutte le industrie e la competizione si fa anche su quello per esempio spendere tanto spendere poco per fare le stesse cose vi faccio un esempio la società autostrade che non c'entra niente ma è per dare l'idea prima della privatizzazione per fare un chilometro di autostrada nuova spendeva una certa cifra dopo la privatizzazione spendeva una cifra largamente inferiore a Milano per fare un chilometro di metropolitana prima di Tangentopoli si spendeva una cifra dopo le inchieste di Tangentopoli se ne spendeva una frazione di quella cifra naturalmente qui non sto a dire questa casistica non si applica al fatto specifico dell'ILVA e tuttavia mi domando come è stato stabilito che cambiare i 223 aggeggi che funzionano nei forni da quel risultato lì è stata fatta faccio per dire una specie di asta figurativa fra i potenziali fornitori c'è un qualche esperto tecnico o magari lo sono gli stessi custodi che la sa lunghissima in materia e è certo che quello è il numero giusto questo sul piano metodologico cioè nei bilanci delle aziende c'è un capitolo che è cruciale per poter leggere il seguito che si chiama principi contabili in questa relazione io non ho visto ma forse mi è scappato e quindi sono qui a dire fatemelo vedere un analogo capitolo diciamo che ci consente una lettura in profondità degli oneri che vengono indicati da una parte dall'altro però la cosa che più mi ha colpito e che mi porta a dire che probabilmente non ho letto bene e che sembrerebbe che la somma di quello dei numeri indicati dia 2 miliardi e quindi da 2 a 8 che tipo di diciamo così strada bisogna percorrere ci sarà senz'altro una strada ma quello ci serve perché il giorno che dovremo convertire il decreto noi queste cose dobbiamo averle capite prima la parola per le conclusioni al procuratore Sebastio mi scuso col senatore Messina no no per carità mi scuso io di essere stato poco presente a questa a questa baronamia che si è svolta di audizioni e di no chiedevo mi aggiungevo delle così dei dubbi a quanti ai dubbi che esprime il presidente cioè il profitto quello che si chiama profitto è o è utile distribuito quindi incamerato già realizzato da parte dei soci oppure aumento di valore del bene su cui uno ha la partecipazione io escludo che l'ILVA che è uno stabilimento sbagliato peraltro e per dimensioni e per localizzazione perché l'acciaio si fa al sud e si consuma al nord poi in altri posti e quindi si trova una concorrenza sleale rispetto ad altri se un altro sleale se un altro per la localizzazione i francesi esportano più facilmente il loro acciaio alla Fiat di quanto non possa fare l'ILVA naturalmente io ho partecipato mi permetta così siamo in famiglia per baco le fabbriche della Fiat sono tutte nel mezzogiorno sono tutte vicine all'ILVA sì ma al nord insomma quindi diciamo sono tutte lì l'unica sua è Mirafiori sì però i trasformatori sono più al nord ad esempio i tondinari eccetera quindi l'acciaio non si consuma direttamente all'ILVA ma si consuma dopo una trasformazione che avviene al nord io ho partecipato alla formazione dell'ILVA quando era a Liri ed è nato appunto questo mostro che siamo stati costretti a portare avanti perché era lì evidentemente quei rischi della dimensione cioè concentrare l'acciaio in un solo posto basta uno sciopero che ti blocca insomma in generale si cerca di sia per ridurre l'inquinamento si cerca di diluirlo di ripartirlo sul territorio insomma ecco questo di considerare che l'ILVA possa aver creato un arricchimento nei soci per lavori fatti o non fatti e già io veramente mi sento di escluderlo e spero che adesso il procuratore possa darci qualche indicazione ma poi non aspetta lui forse arrivare a tanto tecnicismo però credo così che qualche dubbio penso di poter aggiungere a quelli del Presidente senza altro grazie procuratore Sebastio e poi i miei non è che sono dubbi mi sono proprio domande da ignorante per capire allora cerco di ricapitolare mi sono annotato insomma poi magari se mi sfugge qualcosa me lo ricorderanno i diretti interessati allora parto quindi in ordine senatore Tomaselli esatto e allora caro senatore innanzitutto prendo lo spunto da quelle considerazioni che ha fatto per mi prime precisare una cosa spesso sulla stampa si legge la guerra si è letto la guerra tra la magistratura e lo Stato ovvero sia tra la magistratura e il governo il Parlamento e questo è un concetto che io e parlo a nome questa volta sì di tutti i miei colleghi noi riteniamo di dover rifiutare non ci può essere una guerra tra poteri dello Stato tra organi dello Stato perché se ci fosse una guerra noi saremmo alla fine della democrazia ci possono essere dei momenti nei quali ci possono essere delle situazioni dialetticamente magari anche non concilianti o conciliate ma questo non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di guerra questo deve essere chiaro anche se a volte c'è stata una dialettica forse anche accesa devo dire non da parte nostra perché noi abbiamo cercato sempre di tacere non so se si è capito se si è seguito ma una cosa è il contrasto dialettico una cosa è la guerra io la respingo a priori la guerra delle potere dello Stato non esiste non ci può essere poi devo aggiungere anche che noi ritegiamo di aver dare atto a legislature in tutte le varie tappe di questa vicenda che finalmente si è attivato cioè mentre in passato e ripeto io un po' anche per motivi di età insomma sono un po' una memoria storica purtroppo per me perché gli anni passano e io ho sempre detto i nostri processi sono stati celebrati puntualmente in aule deserte e ce ne sono stati aule deserte intendiamoci a me magistrato che l'aula sia deserta fa comodo cioè sto più tranquillo mentre avere un'aula affollata con i tifusi ci cria fastidio però quando io dico aule deserte voi comprendete a che cosa mi riferisco ecco finalmente io non voglio accusare nessuno ci mancherebbe se c'è uno che deve autocriticarsi sono io e siamo tutti noi cioè noi prima di dare lezioni agli altri dobbiamo intanto farci noi un esame di coscienza perché anche noi abbiamo avuto delle inadempienze delle colpe in passato in questo momento finalmente noi tocchiamo con mano che tutti gli organi competenti intervengono poi si potrà discutere sulle modalità di questi interventi potranno essere secondo noi ma sono opinioni per carità potranno essere perfette parzialmente perfette imperfette sotto determinati punti di vista ma finalmente la sensazione che noi abbiamo è che comunque indietro non si tornerà questa questione che poi io aggiungo anche non è solamente una questione che può riguardare Taranto lo stabilimento siderurgico di Taranto questa è una questione che perché io non posso pensare che Taranto sia la fonte di ogni inquinamento sia un buco nero dove si consuma l'inquinamento e tutte le altre zone d'Italia per carità sono perfette allora forse l'unico aspetto positivo di questa vicenda è proprio questo che il legislatore ha manifestato una prisa di coscienza e questo è sicuramente un fatto positivo poi diceva il senatore Tomaselli ho annotato qui atteggiamento dilatorio dell'azienda beh indubbiamente che ci sia stato un atteggiamento dilatorio da parte dell'azienda perso che lo si desume dal fatto stesso che il legislatore ha ritenuto di fare un secondo provvedimento e qual è la morale sottisa al secondo provvedimento normativo e cara azienda siccome ci rendiamo conto che ci sono delle inadempienze e quindi c'è un atteggiamento dilatorio beh allora interveniamo noi attraverso il commissario governativo e quindi tu per favore accomodati un po' di lato che poi non è neppure un fatto strano imprevisto inesistente nel nostro ordinamento se noi guardiamo il diritto fallimentare faccio un esempio sarà banalissimo ma se noi guardiamo il diritto fallimentare noi vediamo che il tribunale fallimentare a fronte di una istanza di fallimento nei confronti di un imprenditore di un'impresa invece di dichiarare seduta santo il fallimento può disporre un'amministrazione controllata cioè può dire all'imprenditore attinto da queste iniziative vuol dire va beh allora senti adesso metti da parte io nomino dei curatori fallimentari amministreranno loro non so per un anno eccetera alla fine vediamo perché se l'azienda è stata risanata allora noi possiamo evitare la dichiarazione di fallimento e andiamo avanti e tu potrai ritornare quindi voglio dire non è neppure che sia una iniziativa completamente rivoluzionaria quella che è stata presa dalla legislatura per quello che può valere chiaramente il mio parere la mia valutazione il senatore Petrocelli vita e lavoro tutela del diritto alla vita e tutela del diritto al lavoro e debbo dire che io in passato ho sempre sostenuto una tesima a titolo personale e cioè che il diritto alla vita è l'unico diritto previsto dalla nostra carta costituzionale che non ammette i contemperamenti tutti gli altri diritti ammettono dei contemperamenti perché debbano coesistere tra di loro il diritto alla vita no perché non è un diritto patrimoniale come gli altri tutti gli altri diritti mirano la tutela di un patrimonio una situazione economica o pare economica il diritto alla vita no ma ci è stato insegnato che non è così che il diritto alla vita e il diritto al lavoro sono messi sullo stesso piano ne prendiamo atto e ci tacciamo sotto questo punto di vista quindi chi inquina paga mi pare che diceva il senatore Petrocelli e chi inquina paga dice ma che è avvenuto in passato ma guardate che in passato ci sono stati se ricordo bene mi pare quattro atti di intesa uno all'anno stilati stipulati tra l'azienda gli organi locali di amministrazione le rappresentanze sindacali e via dicendo e in questi atti di intesa si stabiliva che l'ILVA da una parte si impegnava a fare tutta una serie di opere che purtroppo sembra che non siano state mai effettuate alle quali obbligo al quale non si è ottemperata e gli organi competenti gli organi amministrati competenti non so si impegnavano a ritirare la costituzione di parte civile in un certo procedimento penale poi conclusosi con sentenza di condanna o a fornire determinate somme di denaro per la bonifica dei siti principio forse non troppo conseguenziale col principio chi inquina paga non chi è inquinato paga queste posizioni sono al nostro esame ma non posso aggiungere altro ovviamente senatore d'onghia non è d'accordo ha detto ai sordi dicendo che si debba chiudere l'acciaieria ma anche noi non so se mi spiego guardate al di là di quelle che possono essere le considerazioni guardate che noi in questo settore siamo intervenuti io parlo dell'autorità giudiziaria in genere locale e noi siamo intervenuti dalla fine di luglio e dalla fine di luglio ad oggi non c'è stato un giorno del quale l'azienda non ha continuato a produrre per una serie di problemi di difficoltà di attuazione del provvedimento di sequestro e così via e questo anche prima che intervenisse il provvedimento il primo provvedimento normativo e ha continuato a produrre perché chiaramente noi andavamo incontro a grosse difficoltà per arrivare alla procedura di chiusura degli impianti cino dei problemi di carattere strutturale di cautele da adottare e via dicendo ma non solo per quello adesso cosa avviene i controlli i controlli noi li dovremo continuare a fare però su questo punto non posso aggiungere altro e voi comprenderete il perché ma leggete in maniera più approfondita il decreto legge l'attuale decreto legge senatore consiglio credo i cittadini di Taranto dice l'ilva nel 95 è stata venduta a un prezzo vile ma è stata venduta a un prezzo vile perché evidentemente se io vendo un'auto in pessime condizioni con i freni che non funzionano con lo sterzo che non va bene con le situazioni rotte con il tubo di scappamento che scarica fumi nell'attomazione inquinanti eccetera chiaramente io quell'auto la compro a un prezzo modesto e perché la compro a un prezzo modesto perché me la vendono a un prezzo modesto e perché si mette in preventivo che poi io dovrò spendere un sacco di soldi per poterla rimettere a norma quell'auto è stata rimessa a norma quest'auto tornando all'esempio di prima in tanti anni non lo so ce lo dirà l'indagine quando si concluderà con una sentenza ricordiamoci sempre della presunzione di innocenza e certo è che se nel frattempo un vigile urbano ferma quell'auto che sta circolando in una condizione di estrema pericolosità e dice ma qua io vedo queste cose e dice ma vabbè no ma poi io intanto continuo a camminare poi li faccio i lavori io intanto la fermo l'auto perché non te la posso lasciare da utilizzarla e poi corriamo i rischi arrivi all'angolo e investi un per uno perché i freni non ti funzionano io te la fermo poi fai i lavori e poi ne riparliamo e poi te la restituisco vabbè ma comunque questo risalendo alla questione alla vendita avvenuta nel 95 e via dicendo l'Europa l'Europa sì le norme rappresentano un ginepraio ecco perché vi ho detto prima vi ho fatto degli accenni ma la questione è tutta da valutare da esaminare le aziende estere potranno investire in Italia c'era sempre il senatore Consiglio mi dice mi pare non ricordo adesso potranno investire in Italia investiranno in Italia e va bene ma non lo chiedete questo a noi magistrati insomma io penso ma lo penso da privato cittadino che se l'azienda stannina si rende conto che c'è un atteggiamento serio e conseguenziale in Italia e allora perché non dovrebbe fidarsi seppure insomma si rende conto che le cose vanno a ramengo allora quello è un altro paio di maniche ma possiamo prescindere dal caso specifico quindi vediamo un po' controllo Presidente il sequestro Riva Fide 87% 3% 10% le altre saranno le altre società saranno toccate o meno e qui non posso rispondere prima primo perché intanto abbiamo bisogno di avere la relazione da parte della Guardia di Finanza che sta facendo le verifiche e poi perché se dovessero sorgere questi problemi li dovremo valutare non posso anticipare nulla lei mi scuserà ma sul punto non posso parlare circa la quantificazione allora attenzione è un concetto sfuggente il sequestro che è stato adottato non è il normale sequestro il sequestro probatorio il sequestro preventivo il sequestro conservativo previsto dal codice di procedura penale questo è un tipo di sequestro particolarissimo che è il sequestro per equivalente il sequestro detto per equivalente significa che ciò che viene sequestrato viene sequestrato ma non perché rappresenta corpo del reato o profitto specifico del reato è un concetto sfuggente insomma non è facile neppure per noi capirlo fino in fondo le devo dire la verità nel caso specifico il ragionamento che si è fatto ma lo abbiamo fatto non perché ce lo siamo inventato noi lo abbiamo fatto basandoci su dottrina e giurisprudenza il ragionamento è stato allora noi abbiamo sostenuto al giudice davanti al giudice e il giudice si è dichiarato d'accordo facendo quel provvedimento che è tutto da valutare ripeto noi siamo in attisa della decisione del tribunale dell'esame eventualmente della cassazione e via dicendo il ragionamento che è stato fatto è allora tu azienda perché il nostro interlocutore non è l'indagato persona fisica ma è l'azienda quindi già questo le fa comprendere che siamo in un terreno completamente diverso da quello del normale codice penale codice di procedura penale che riguarda persone fisiche stiamo parlando di persone giurisprudiche allora il concetto che è stato fatto da legislatore noi lo abbiamo interpretato in questa maniera se abbiamo sbagliato avremo la risposta e il provvedimento sarà annullato benissimo tu persona giuridica avresti dovuto effettuare del corso di questi anni dal 95 in poi perché lo sapevi che cosa acquistavi e che cosa acquistavi è stato detto per tabula se lo desumevi dal prezzo irrisorio di acquisto questo va tu avresti dovuto fare tutta una serie di lavori per la famosa auto di cui all'esempio per mettere questo mezzo a norma hai preferito non spendere quei soldi o spenderli solamente in parte accettando quindi il peso diciamo il peso di commettere dei reati cioè hai scelto di commettere dei reati pur di risparmiare queste somme allora siccome è stato conseguito questo vantaggio io autorità giudiziari io magistrato competente utilizzando queste norme speciali attenzione ecco perché le ho detto da non confondere con il codice di procedura penale con le norme normali le norme processuali penalistiche e allora io ti fermo questo denaro che non è il bottino cioè noi abbiamo ritenuto non di sequestrare il bottino cioè Tizio fa una rapina prende i soldi se li mette nel tiretto di casa e quello lo andiamo a sequestrare ma quello è corpo di reato no non è quella l'ottica del sequestro per equivalente non so se riesco a esporre il mio pensiero che ripeto non è agevole anche da esporre offi che la far comprare noi ti blocchiamo l'equivalente ecco il sequestro per equivalente di quello che hai conseguito non è il corpo di reato non è il bottino della rapina non so se mi spiego posso aiutare posso rimanere accesi a due basta il privilegio del presidente può tenere acceso anche lui il microfono possiamo rimanere accesi a due allora siamo in concorso siamo in concorso va bene ma tanto penso di aver finito no 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 qui c'è un punto che io non ho capito perché adesso ho capito il concetto del sequestro per equivalente però quello che diciamo comincio a credere forse di capire ma non sono sicuro si è la quantificazione della cifra e ci stavo arrivando adesso ecco perché e di fatto ce l'ho annotato basta allora quindi lei dice questa non è responsabilità del magistrato l'atto del GIP che è quello che i curiosi possono scaricarsi da internet senza una gran fatica se lo leggono e vedono che ci dicono è la somma degli oneri che l'ILVA si sarebbe dovuto accollare nel corso degli anni ecco però ecco qui il punto la quantificazione è interessante da questo punto e allora sulla quantificazione noi abbiamo avuto questa relazione da parte dei commissari amministratori no dei commissari sì sì dei amministratori custodi ecco il termine tecnico è amministratori custodi ci hanno fatto questa quantificazione di cancio d'altra parte guardi che quella cifra forse è al di sotto della realtà perché se noi parliamo solamente degli oneri per la copertura dei parchi minerali lì ad occhio e croce parliamo solamente per questo lavoro di io rite alcuni miliardi e per quanto riguarda il problema dei parchi minerali realizzati a suo tempo a cento metri dalle prime abitazioni per favore smettiamo di dirla di sentir dire come a volte si legge sui giornali che l'ILVA era nata in un deserto e che poi le case magari abusive sono proliferate successivamente sono andate a costruire i tarantini sono andate a costruire dentro l'ILVA quando l'ILVA già esisteva e questo non è vero insomma io sento ancora ci sono ancora anche personaggi di alto livello che sostengono questo che è stata la città a crescere intorno all'ILVA attaccata all'ILVA insomma il cimitero di San Brunone sta lì da 200 anni ed è attaccato all'ILVA ma voi lo sapete che il cimitero di Taranto ha una caratteristica unica in Italia le cappelle funerarie prospicenti l'area dei parchi minerali vengono tinteggiate dai proprietari di color rosa sapete perché? perché siccome ricevono nuvole di polvere di minerale ferruso che è color rosso rosa a un certo punto quelli si sono stancati di pittarle bianche e adesso e noi abbiamo forse è il caso più unico che è raro in Italia abbiamo le cappelle funerarie tinteggiate di rosa quindi come si fa a dire le case ma insomma via Orsini io me la ricordo da quando ero piccolo insomma i tamburi sapete perché si chiamano tamburi? il quartiere tamburi mica perché vanno con i tamburi perché all'interno del quartiere tamburi corre ancora il vecchio acquedotto romano e siccome il rumore dell'acqua che scorreva all'interno di questo acquedotto romano era un rumore molto alto e tamburreggiante nel gergo i tamburi i tamburi ecco come allora come si fa a dire appunto quindi come si fa a dire vabbè questo questo è un inciso allora i tecnici hanno conteggiato queste cifre non sono lontane dalla realtà voi pensate che la copertura e secondo me qua esprimo un'opinione mia ma confermate in numerose sentenze di condanna l'unica maniera per evitare la diffusione delle polvere dai parchi minerali sulla città è la copertura dei parchi minerali identica a quella che è prevista per gli impianti siderurgici della Hyundai in Corea stabilimento siderurgico che ha la stessa capacità produttiva dell'Ilva se voi guardate le fotografie dei parchi minerali dello stabilimento siderurgico Hyundai vedete come si può realizzare altrimenti le montagne di minerali non possono essere fermate con le reticelle protettive le abbiamo viste di recente e men che meno spruzzando i fissanti l'acqua i fissanti prima di tutto perché i fissatori l'acqua che viene spruzzata non servono assolutamente a niente non lo dico io lo dicono numerose sentenze di condanna che hanno detto qui noi parliamo di montagne di polvere di minerali che non stanno lì immobili e ferme per cui tu ci metti sopra il fissatore e magari possono mantenere e non possono neppure mantenere data l'enormità di questi cumuli va bene ma noi parliamo di cumuli che sono in continua movimentazione perché continuamente dai nastri trasportatori in partenza dal porto ricevono polvere di minerali continuamente gli altri prelevano e trasportano con gli altri nastri allora sono cumuli che sono in continua movimentazione allora pensate di poterli tenere ancorati al suolo questi cumuli spruzzando i fissatori insomma a parte le considerazioni anche di carattere penale perché se io spruzzo acqua devo impermeabilizzare il suolo sottostante devo realizzare un sistema di raccolta delle acque e via dicendo quindi un'ipotesi potrebbe essere ma io non sono un ingegnere ancora lo so insomma perché non si potrebbe pensare ma questo lo lascio ai tecnici io non sono un tecnico a sostituire la polvere minerale con il conglomerato di minerale cioè il pellè il pellè ebbè è più contenuto cioè se quello stesso minerale invece che pulverulento lo si prende solido e insomma il fenomeno si potrebbe attenuare si potrebbe a tutti certo occorrerà fare più viaggi con le navi occorrerà pagarlo di più ma insomma ci sono delle misure che può ripeto i consulenti hanno fatto quella valutazione vedremo le difese il compito del tribunale del riesame sarà di valutare il tribunale del riesame e la Cassazione farà quelle valutazioni e potrà dire insomma esagerate quindi ma qui io non posso parlare per ovvi motivi ho detto tutto ho risposto io ringrazio il prego lei ha dichiarato che l'inchiesta sarebbe conclusa entro giugno conferma questa previsione essendo ormai a metà giugno mi sembrava una scadenza significativa anche per girare pagina diciamo in questa vicenda posso dire lo posso dire perché che d'accordo con i colleghi noi abbiamo stabilito che occorre mettere un punto fermo purtroppo debbo dire che più si va avanti più emergono altri filuni però a un certo punto questo lo posso dire perché non è una violazione del segretario di struttura noi siamo d'accordo nel dire intanto cominciamo a mettere un punto fermo e poi e poi andremo se ci sarà da andare avanti se no corriamo il rischio di non concluderla mai questa indagazione adesso io non le faccio una dichiarazione non le posso dire ma la nostra il nostro ospicio la nostra intenzione la nostra aspirazione è quella di concludere la parte che ci riguarda prima del periodo estivo grazie chiudiamo qui il nostro incontro consegneremo ai colleghi il documento dal quale io avevo ricavato quelle domande ce l'avete già perfetto e vorrei soltanto ricordare che quanto alla copertura dell'area dei parchi minerari il documento essendo un investimento che se la soluzione è quella della copertura è molto oneroso ha ragione il procuratore Sebastro di dirci che è una cosa pesantissima però quella cifra non è compresa non è compresa e quindi il valore dei 2 miliardi non comprende quindi il tema 2 e 8 lascia fuori la questione della spesa dell'eventuale soluzione della copertura dei parchi minerari quindi quel tema qui sarà un tema su cui torneremo se come possibile faremo questa missione a Taranto a Taranto parleremo di nuovo con tutti non disturberemo più il procuratore se non ci saranno emergenze ma con cercheremo di parlare con i custodi con chiunque altro in modo tale da arrivare a prendere la nostra decisione come dire conoscere per deliberare grazie 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 a tutti grazie a tutti